Musica Riprende anche quest'anno Filosofarti, il festival di filosofia e arti, teatro, cinema, conferenze e dibattiti aperti a tutta la città e al territorio non solo della provincia ma anche ormai delle regioni del Nord Italia e forse anche a livello nazionale. Infatti ci pregiamo della medaglia del Presidente della Repubblica che quest'anno ha voluto riconoscere la nostra iniziativa sul piano nazionale con questo importante segno di riconoscenza per un'attività che nasce dal Centro Culturale del Teatro delle Arti e che vede un gruppo di volontari in nome di un umanesimo integrale produrre un festival veramente importante con nomi davvero significativi, tutti testimoni della contemporaneità di alto profilo. Ci sono esperienze per tutti, dai bambini agli adulti, dai neofiti della filosofia agli esperti e saremo accompagnati anche da nomi come quelli di Filippo D'Averio, Massimo Cacciari, Umberto Curio, Umberto Dalimberti, Carlos Sini e due presenze internazionali, Jean-Noël Aletti, è un teologo importantissimo e naturalmente anche Marco Gé che sosterrà una serie di iniziative anche sul tema della città che si fa al luogo appunto, Filosofapia è il luogo dove i pensieri si incrociano, le esperienze si fondono e questo è il nostro regalo alla comunità. Grazie a tutti!